via vai di sentiero buongiorno a tutti eccoci al giro di oggi con l'inizio dell'automo ricominciare con le tappe alfine prima che arrivi la neve se nel caso arrivi la gita di oggi sarà al monte soglio arriveremo quindi con la bici a circa 1700 metri di altezza del rifugio al pessoglio poi c'è ancora un pezzo di sentiero che è un punto in forte che sta al monte siamo all'altezza siamo tra San Francesco e Cirie in questo bellissimo tratto all'inizio del bosco la giornata è fresca ma bella dovremmo riuscire ad animare la distanza